Si intitola Fedez ridica con il vicino, è uno dei servizi proposti ieri, probabilmente il più bello, a mio avviso, della puntata, 13 marzo 2016, a firma di Alessandro Onnis e Stefano Corti, il duo comico. Un servizio comico, infatti, entrambi, sia Stefano Corti italiana del 85 che, Alessandro Onnis, cercano di far riappacificare Fedez, il famoso rapper del nord Italia, con il vicino di casa, perché vi ricordo che sarebbe stato picchiato. E così ne nasce un quadro divertente, infatti, i due cercano di architettare il tutto al meglio, il risultato è fantastico, Fedez si diverte molto, le risate scoppiano e ci sono in modo tranquillo, in modo regolare e, di conseguenza, questo servizio possiamo definirlo, possiamo come dire, etichettarlo come un servizio divertente, piacevole, sbarazzino alquanto, ma anche molto intrigante, perché è stato capace di trasmettere il buon umore. Una cosa, una caratteristica probabilmente che molti servizi non riescono a offrire, ma che invece questo è riuscito a offrire. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e in questo video voglio sicuramente informare eventuali persone di questo servizio, non per altri motivi da uscire tra i video. Iscrivetevi. Grazie. Grazie.